Allora, le segnalazioni di alcuni mammi e di alcuni genitori vi hanno portato a fare una scoperta significativa? Sì, abbiamo fatto una verifica e su tutte le scuole fanesi, asili, quindi scuole elementari, abbiamo verificato che in 80 aule non è affisso il crocifisso, che è un simbolo di pace, un simbolo di fratellanza e un simbolo anche culturale, perché rappresenta la bimillenaria cultura cristiana, che è fondante nel nostro paese, fondante dell'Italia, ma è fondante dell'Europa e ne abbiamo presenza ovunque, nella nostra cultura, nei nostri monumenti, nella nostra città, nel nostro modo di essere e poi è presente nelle nostre leggi, è l'unica presente nella nostra Costituzione ed è l'unica presente nelle leggi italiane che vanno rispettate, per cui noi abbiamo presentato una mozione proprio per far sì che il Consiglio Comunale si esprima e faccia rimettere tutti questi simboli che sono appunto il crocifisso all'interno delle aule, in maniera che anche alle future generazioni venga tramandata la nostra impostazione culturale, ripeto, bimillenaria, quindi la tradizione cristiana, e venga trasmessa tramite il rispetto delle leggi, che è un altro aspetto fondamentale, e il Comune in questo caso deve rispettare la legge italiana.